Rimandata di almeno qualche giorno la demolizione di questo ponte. Si tratta di una ponte sulla Zellina, il torrente esondato lo scorso luglio quando una violenta ondata di maltempo si era battuta sulla retino. Si tratta di un'annosa vicenda che ormai va avanti da anni. La struttura abusiva di fatto al momento infatti rappresenta l'unica viabilità carrabile per una famiglia che questa mattina si è opposta la demolizione del ponte. La struttura però lo scorso 27 luglio aveva acuito le problematiche degli allagamenti nella zona, quella che va da San Marco a Santa Firmina. La sua demolizione adesso si è resa necessaria anche per i lavori di messa in ripristino delle sponde del torrente. Una famiglia ha chiesto di dilazionare di 24 ore la demolizione. Credo che l'ufficio ambiente abbia accettato questa proposta e si ripresenterà con le ruspe per demolire questo ponticello lunedì. Non so che cosa potrà cambiare per questa famiglia da qui a lunedì, mi rendo conto dei loro problemi ma noi abbiamo un'ordinanza da parte della regione toscana del Genio Civile di demolirlo perché quel ponticello è quello che ha creato l'esondazione e che ha creato mille allagamenti da altre parti. Il ponte è abusivo quindi non ci può stare. Siamo tutti consapevoli delle difficoltà di una famiglia, cercheremo di aiutarli nel miglior modo possibile ma in realtà quel manufatto lì in quel modo non ci può stare. Ci sono vie alternative pedonali, non ci sono al momento vie alternative carrabili. Quindi è un tema che si pone e vedremo come risolverlo però nel momento attuale non possiamo fare a meno di non ottemperare un'ordinanza che non abbiamo emesso noi ma che riteniamo comunque giusta, non ci siamo opposti perché in realtà il problema dell'esondazione di una parte di quello che è avvenuto anche a luglio deriva dall'esistenza di questo ponticello.